Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Guardians, io sono Splash e oggi siamo qui con il consueto appuntamento delle esotiche della settimana, su Ren Torre, qui vicino all'Oratore lo vedete, quindi andiamo subito a vedere che cosa vende. Per prima cosa abbiamo gli engrammi storici, pesanti, che ci permettono appunto di trovare un'arma pesante dell'anno 1, esotica, ovviamente. Abbiamo pugni dell'immolazione, guanti esotici per il titano, davvero davvero carini, belli pesanti. Abbiamo Piro Acceleratore, che ci permette di incendiare i nemici circostanti con il martello, quindi per quanto riguarda lo spezzasore. Abbiamo un aumento di intelletto e un aumento di forza. Abbiamo poi oggi ha dei colpi, che ci permette di aumentare la velocità degli attacchi corpo a corpo, induzione impatto con cui corpo a corpo forniscono energia bonus alle granate. In più abbiamo caricatore per cannoni portatili, quindi aumenta le munizioni, e caricatori per fucili a pompa. Per quanto riguarda il cacciatore abbiamo il famosissimo Falconotte Celestiale, un casco esotico per cacciatore dell'anno 1, qui portato all'anno 2, quindi 280 di difesa. I perk sono preda grossa, ovvero come quello per l'anno 1, che la pistola d'oro infligge un danno da 6 per e garantisce buco dalla serratura, davvero molto molto utile, soprattutto con i boss ultramaggiori, eccetera. Abbiamo un aumento di intelletto e di forza. Abbiamo polvere all'asset, con cui le granate forniscono super energia bonus, vedete. Poi abbiamo ripensamento, uccite e rimossi dell'oscurità con armi speciali fornisce super energia bonus. Infine abbiamo innervazione, con cui abbiamo energia bonus delle granate quando si raccoglie una sfera di luce. Per quanto riguarda lo stregone, infine abbiamo un'armatura torace sempre dell'anno 1, che è il cuore del fuoco prassico, qui portata all'anno 2.0, quindi 280 di difesa, anche questo lo conosciamo bene. Abbiamo sia lodato il sole, con cui si riduce ulteriormente il tempo di recupero di tutte le abilità, mentre radianza attiva e si ha un aumento notevole dell'agilità, per cui direi abbastanza interessante questo perk, sia lodato il sole. Abbiamo un aumento di intelletto, abbiamo un aumento di disciplina, abbiamo maggiori munizioni per fucili da ricognizione e fucili a pompa. Abbiamo salvabracci del vuoto, che riduce i danni subiti dalle bracci del vuoto, e questo può essere molto interessante per tipo un calo alla notte, direi davvero buono. Infine armatura solare, che aumenta l'armatura mentre utilizza una sottoclasse solare, quindi appunto la radianza. Direi un pezzo davvero molto molto buono, poi abbiamo anche l'engramma esotico per i caschi con 19 strane monete, abbiamo come al solito le particelle di luce, abbiamo le sintesi pesanti, il 3D ori e poi i vari propulsori. Direi che sono tutti e tre dei pezzi interessanti. Comprerò i guanti del titano, anche se al momento non mi sembrano nulla di eccezionale, perché comunque la sottoclasse del titano la devo ancora utilizzare. Molto buono il cuore del fuoco plastico, che appunto può essere utilizzato soprattutto per un cala quando ci saranno le bracci del vuoto. Appunto pugni dell'immolazione lo comprerò perché comunque è un pezzo esotico nuovo dell'anno 2.0 e a questo punto direi anche il fuoco di notte celestiale, perché comunque anche questo col suo 6 per di danno può essere utile nei cala la notte. Io con questo vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, seguiteci su facebook, su twitter e su twitch e anche su bungee.net dove trovate il nostro clan TheGuardiansIt. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti i guardiani!